Il cibo come mezzo di reeducazione e inclusione sociale in carcere e questa l'idea di fondo alla base dei laboratori di cucina per le detenute promossi e finanziati dalla consulta delle elette del Piemonte e organizzati dalla cooperativa Orso. L'iniziativa ha previsto un ciclo di incontri all'ICAM di Torino situata presso la casa circondariale Lorusso Ecotugno che attualmente ospita sette detenute con nove bambini. Al sesto e ultimo incontro il 4 novembre hanno partecipato anche la presidente, una vicepresidente della consulta e altre componenti fra le consigliere regionali.